Grazie Presidente, anche quest'ultimo emendamento è un emendamento della Commissione Bilancio su indicazione dei Dipartimenti Mobilità e Lavori Pubblici. Si tratta di fondi inizialmente attestati sul Dipartimento Mobilità che fanno riferimento alla realizzazione al piano straordinario di generare ciclabili a supporto della mobilità sostenibile post lockdown, sono fondi dello Stato, quindi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con questa operazione parte di questi fondi, corrispondente alla cifra di un milione, vengono spostati per competenza senza modificare ovviamente la loro destinazione sul Dipartimento Simu che realizzerà quindi parte di queste opere al posto dell'iniziale previsione che prevedeva la realizzazione da parte del Dipartimento Mobilità in tollo, questo per ovviamente facilitare la realizzazione di quanto previsto appunto nella terza fase del piano straordinario. La Commissione quindi propone questo emendamento all'Aula per garantire lo spostamento di questi fondi. Grazie.